Ciao a tutti, in questo video voglio presentare una meditazione per potenziare la virilità. La virilità è collegata, diciamo, al nostro chakra radice, il chakra segreto, quello che sta alla base della colonna vertebrale. Allora, se vogliamo potenziare la virilità, dobbiamo metterci in una posizione comoda, con la schiena retta, ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate e chiudere dolcemente gli occhi. E mentre sei con gli occhi chiusi e ascolti il suono della mia voce, ti rilassi sempre di più. E via via che ti rilassi sempre di più, porta la tua attenzione sul respiro. E mentre l'aria entra e esce dai tuoi polmoni, il tuo respiro diventa calmo e regolare, come calmo e regolare è il respiro del mare, come calmo e regolare è il respiro dell'universo. E mentre continui ad ascoltarmi, ti chiedo di portare la tua attenzione alla base della tua colonna vertebrale. Porta la tua attenzione alla base della tua colonna vertebrale. In quella zona si trova il chakra collegato ai nostri istinti, alla sessualità. Visualizza una luce di colore verde alla base della colonna vertebrale. Questa luce di colore verde diventa sempre più grande, sempre più intensa. E va a invadere, coprire, potenziare i tuoi genitali. Questa sfera di colore verde copre completamente i tuoi genitali e li rende sempre più potenti. Adesso sposta la tua attenzione mentale sui genitali e renditi conto, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, che la tua potenza sessuale aumenta giorno dopo giorno, mese dopo mese, istante dopo istante. Mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, la tua potenza sessuale comincia ad aumentare, a diventare sempre più forte, sempre più potente, forte e potente, forte e potente. E questa luce di colore verde inonda completamente e rivitalizza i tuoi genitali, aumenta grandemente la tua potenza sessuale. Mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce. E adesso mantieni la tua attenzione mentale sui tuoi genitali e respira profondamente. E ad ogni ispirazione dell'energia di potenza, di forza, entra dentro di te e continua a rivitalizzare, a rendere più potenti i tuoi genitali. E puoi immaginare te stesso in grandi prestazioni. Visualizzati soddisfatto, felice, appagato dalle tue prestazioni sessuali. Mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce. Mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce. E mentre tutto questo succede, ti rilassi sempre di più. Adesso ti chiedo di fare tre respiri profondi, trattenere alcuni istanti l'aria e poi espirarla fuori e fin in fondo con la bocca. E al termine di questi tre respiri profondi, rendendoti conto che la tua potenza sessuale è giorno dopo giorno, aumenta sempre di più. Quando sarai reso veramente conto di tutto questo, apri gli occhi. Bene, questa meditazione potrai ripeterla quotidianamente per potenziare, massimizzare, ottimizzare la tua potenza, la tua virilità, la tua potenza sessuale, la tua virilità. Per questo video è tutto. Ti ricordo due cose, che venerdì 24 febbraio, venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 20.45, terratore in un corso su come coinvolgere con le emozioni, ore 20.45, educatore della provvedenza in corso 3013. Se sei interessato o interessata, il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di partecipare all'estrazione di 10 corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo oppure da video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!